Anticipazioni Tempesta d'amore, trama puntate, mercoledì 10 novembre 2021. Ariane decide di conservare le prove che incriminerebbero Eric in un nascondiglio sicuro. A un tratto però la donna si accorge che una fotocamera installata nel laptop del Vought ha ripreso tutti i loro movimenti. Spaventati capiscono di essere finiti nel mirino di Lars e determinati a tutto pur di difendersi, decidono di preparare subito un piano per salvarsi la pelle e portare l'uomo sulla strada sbagliata. Mai e Florian non sono riusciti ad avvistare il gufo delle nevi. Nonostante questo si sentono molto felici. L'esperienza che hanno vissuto insieme li ha avvicinati ancora di più. E' un bene per entrambi non essere più in conflitto tra loro a causa dei problemi tra Cornelius ed Eric. Vanessa intanto soffre a causa del serrato corteggiamento che Max ha intrapreso verso Shirin. E si sente messa da parte. Pertanto ha una dura reazione. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.